Musica Le luci, la festa, la spiritualità, le tradizioni sono i segni del Natale di Betlemme. La cittadina palestinese oggi, come 2000 anni fa, diventa il cuore del mondo. Il mistero della nascita di Gesù pervade le celebrazioni solenni, dall'ingresso del patriarca latino attraverso il muro di separazione fino alla celebrazione nella grotta della Natività. Lo spirito del Natale contagia fedeli locali e pellegrini da ogni parte del mondo e di ogni fede. La ricerca di una spiritualità profonda trova giovamento dal pellegrinaggio notturno al campo dei pastori. Tutto a Betlemme parla dell'umiltà e della semplicità della nascita di un bambino che ha portato la salvezza al mondo intero, almeno per chi crede. È quanto vi raccontiamo in questa edizione natalizia del Terra Santa News, tra immagini, voci, racconti ed emozioni direttamente da Betlemme. Il Natale della Terra Santa passa però anche da Gaza, nel luogo in cui, secondo la tradizione, la Santa Famiglia è passata durante la fuga in Egitto, di fronte alle macerie lasciate da una guerra passata da troppo poco tempo, la speranza per il futuro nasce dal desiderio di rinascita della piccola comunità cristiana locale.